fra pochi giorni uscirà il settimo volume di diabolic magnum è una collana interessante vediamolo insieme buoni fumetti a tutti prima di incominciare e di parlare di diabolic un ringraziamento come al solito a tutti coloro che sono venuti a vedere i miei video che mi hanno messo dei like che si sono iscritti al canale e che hanno commentato i miei video sono tutte cose che mi fanno immensamente piacere e quindi molte molte grazie quindi parliamo di diabolic non ne ho mai parlato finora sul mio canale si tratta di un fumetto che io acquisto di tanto in tanto per quello che riguarda la serie mensile ma per quello che riguarda più precisamente diabolic magnum devo dire che li ho acquistati tutti tutti e sei quelli che sono usciti fino ad oggi vediamoli quindi in sequenza il primo è questo i gioielli perduti come potete vedere si tratta di albi piuttosto generosi di pagine sono circa 600 pagine per ogni volume poco più poco meno seconda delle pubblicazioni contengono grosso modo cinque albi vengono sempre riportate le copertine sul retro del volume e sono albi tematici nel senso che le storie che sono contenute all'interno di ogni volume sono legate da un argomento comune nel primo volume che vi faccio vedere i gioielli perduti si parla sostanzialmente di di preziosi che per qualche motivo sono scomparsi quindi non si riescono più a trovare o comunque è molto difficile andarli a recuperare all'interno di ogni albo sono contenuti dei redazionali interessanti in diciamo all'inizio del degli albi c'è sempre un articolo che mette in evidenza ed approfondisce i temi relativi alle storie contenute all'interno ma da un punto di vista anche storico per esempio in questo caso si parla di gioielli sangue e misteri e si e si fa una specie di resoconto di quelli che sono stati gli episodi nella storia di gioielli misteriosamente scomparsi si parla come vedete della famiglia romanoff sono redazionali veramente interessanti si parla sempre in questo articolo per esempio di maria antonietta c'è stato un episodio di gioielli scomparsi che ha riguardato anche agatha christie quindi diciamo che sono albi che alternano alle storie classiche di classiche o anche più moderne di diabolic vedete i soliti disegni in stile diabolic si potrebbe dire poi magari ne parlerò un pochino più approfonditamente dicevo sono albi che alternano alle storie a cinque storie di diabolic alternano dei redazionali che come vi ho fatto vedere possono approfondire i temi comuni dell'albo e oppure anche altri redazionali che parlano magari di curiosità che riguardano le storie di diabolic oppure curiosità che riguardano quello che sono le storie di redazione per esempio di diabolic aneddoti che riguardano le sorelle giussani e poi alla fine di ogni di ogni albo viene viene contenuto un altro redazionale che anticipa un pochino quelle che saranno le novità in in edicola degli albi futuri interessante il fatto che però questi albi non siano semplicemente una ristampa nuda e cruda di quello che sono le storie di diabolic in ogni albo è contenuta una piccola perla che può essere un rimontaggio di una storia passata rimontaggio di tavole di una storia passata o una storia magari breve che non di difficile reperibilità oppure l'inserimento di tavole di una di un episodio all'interno di una storia di una storia diciamo contenuta nell'albo quindi diciamo ci sono alcune perle alcuni alcune curiosità diciamo che sono contenute all'interno di ciascun albo vado avanti questo che vi ho fatto vedere era il primo il tema chiaramente ho detto sono i gioielli perduti nel secondo albo copertina sempre di di bernardo amore e morte questa è la seconda uscita qui come si può notare dal curioso redazionale all'interno in due si ruba meglio chiaramente questo albo riguarda il rapporto tra diabolic ed evacante come potete vedere anche dalle immagini dei redazionali anche in questo caso il redazionale però non parla solamente del rapporto diabolic e evacante vedete si parla per esempio di steve mcqueen si parla anche di film che sono usciti nel passato e che e che nel passato ma anche in un recente in un recentissimo passato vedete addirittura si parla della casa di carta quindi sono redazionali fatti fatti bene all'interno si trovano storie e come dicevo prima più o meno datate di diabolic vedete che ci sono alcune avventure di diabolic si vede il disegno magari un pochino più datato è una buona occasione comunque per vedere anche qualche storico disegnatore di diabolic i vari facciolo vaniboni insomma quei disegnatori che hanno fatto un po anche la storia grafica del personaggio fino ad arrivare poi a disegnatori più molto più recenti per esempio come buffani le storie che sono contenute sono ripeto sono molto varie e appartengono a diversi anni quindi vengono contenute anche storie scritte dalle sorelle giussani quindi si ha l'occasione per potersi leggere o rileggere alcune alcuni classici diciamo così del personaggio appunto di diabolic proseguo non voglio fare un video troppo lungo la terza uscita ha preciso che queste uscite almeno fino ad ora hanno seguito questa periodicità cioè un numero esce a giugno un numero esce a dicembre questo fino ad oggi il calendario di uscite di questi albi di diabolic magnum la terza uscita un mare di sangue la copertina questa veramente è una copertina a mio parere bellissima sempre opera di di bernardo qui il tema portante chiaramente è il mare quindi l'estate sono tutte storie che vengono contenute all'interno che riguardano chiaramente panorami marittimi vedete qui c'è scene anche abbastanza inquietanti con appunto dei granchi che vedete assalgono salgono delle persone anche qui i soliti redazionali devo dire che ecco poi vi faccio vedere per esempio ci sono anche tavole più moderne però vedete come lo stile del disegno di diabolic più o meno è sempre rimasto simile cioè con queste tonalità di grigio a fare un po da da cuscinetto fra il bianco e il nero diciamo che è uno stile di disegno che è diventato un po un disegno alla diabolic nel senso che questi toni di grigio hanno molto caratterizzato queste tavole a mio parere rendendole rendendole molto personali molto aderenti al personaggio e a mio parere anche molto adeguate allo stile che è uno stile poliziesco duro a volte dai toni anche ambigui quindi anche queste zone grigie aiutano secondo me visivamente ad entrare nella trama di questi di questi albi vado avanti la quarta uscita come cani e gatti vedete c'è l'impronta anche insanguinata rossa ovviamente sulla copertina qui il tema è chiaramente riguardo agli animali anche qui vi faccio vedere c'è un redazionale dovevo far vedere questo disegno che è molto curioso questo qui questo cane con la bocca aperta poi diaboliche devacanti che scappano curioso poi c'è il redazionale iniziale che riguarda degli animali famosi soprattutto in ambito cinematografico vedete che c'è rintintin lessi si parla anche di batman alla fine uomo pipistrello quindi comunque l'animale c'entra anche qui il pipistrello in questo caso e sono sono redazionali sono redazionali a mio parere fatti molto bene guardate che bella anche questa immagine questo primo piano di diaboliche lo sguardo no di ghiaccio di diaboliche quindi poi proseguo ho saltato un albo scusatemi quello che vi ho fatto vedere era la quinta uscita la quarta uscita in realtà era questa freddo assassino qui si parla chiaramente di inverno ci sono storie appunto dove come vi faccio vedere in queste tavole è il freddo a farla da padrone vedete queste tavole in cui insomma neve ghiaccio bello bello come ecco poi qui vi faccio vedere che effettivamente alla fine di ognuno di questi albi ci sono delle rubriche per esempio questa clerville news dove si come dicevo prima si parla di quelle che saranno le uscite future prossime che riguarderanno che riguardano diabolic l'ultimo diabolic uscito diabolic magnum intendo uscito sino ad ora è questo e non poteva che riguardare ovviamente ginkgo nemici sempre qui tra l'altro come diciamo chicca finale viene contenuta una storia in cui c'è il rimontaggio di alcune tavole di diverse storie che hanno riguardato ginkgo si chiama tutte le prime volte tranne una questa storia ma in realtà ripeto è una specie di collage diciamo così di tante storie di ginkgo che sono state montate insieme con uno stratagemma narrativo infatti come potete vedere ci sono diversi tipi di impaginazione perché proprio perché la storia è ricavata da diversi albi molto diversi tra loro ci sono anche delle tavole per esempio vedete molto più piccole sono alcune diciamo delle perle che sono contenute in questi albi per esempio ve ne faccio vedere un'altra nell'albo che vi ho fatto vedere prima cioè in questo albo come cani e gatti è contenuta in appendice una storia che si chiama colpo delle tre api che è una storia breve molto breve poche facciate come pochissime facciate che è una storia che a mio parere può essere di difficile reperibilità e che invece viene inserita in questo albo e si dà quindi la possibilità ai lettori di poterne fruire quindi tirando le somme mi sembra una pubblicazione interessante sicuramente acquisterò il settimo volume che da quello che ho capito è un volume che raccoglierà alcuni albi celebrativi che festeggiano i vari centenari di diabolic se non ho capito male e bene sperando di avere dato un'idea abbastanza esaustiva della collana diabolic magnum non posso che salutare tutti buoni fumetti a tutti e alla prossima grazie